Albano non riesce a trattenersi e si scatena contro sua figlia Jasmine, cosa successo per avere una reazione del genere? Albano e Jasmine sembrano non andare molto d'accordo in questo ultimo periodo e se fino a qualche tempo fa erano legati dalla passione per la musica, attualmente si trovano a percorrere due strade differenti. E' quello che emerge sul profilo social della figlia del cantante pugliese che ha pubblicato. La giovane cantante ha spiegato il significato del suo ultimo tatuaggio, si tratta del numero 777 e sottolinea che Poi il padre le ha chiesto se fanno male e lei ha risposto di sa, allora l'artista se ne è uscita dicendo Il video dove viene riportata la scena intera agia virale e il primo commento stato quello di Loredana Lecciso che non ha perso occasione di ridere alla reazione del marito Maggiore 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 E Cvipia, Jasmine Carrisi ha cambiato anche il colore dei capelli, passando da bionda a rossa rame. Il web impazzito per questo nuovo look che non passato inosservato e mette ancora pia in risalto i suoi occhi azzurri. E a voi piace o elle preferite come mamma la fatta?